Buongiorno, come al solito comunico ai miei affezionati clienti, non posso dirlo, ma diremo ascoltatori, respiro, tranquilli, respiro. La pia è guarita dalla pacca che ha ciapato, dal verbo ciapare che conosce molto bene il nostro amico Parisi, sta bene, quindi non c'ha più cerotti e non è andata in coma, fa parte. Veniamo all'argomento che ha fatto incazzare la pia, la herna, l'ada e tutti i pensionati e compresi anche il sottoscritto che insomma io ho una posizione economica diversa, comunque mi sono incazzato lo stesso. Adesso vi esprimo il motivo della mia incazzatura. Allora adesso quando assumono i dirigenti in provincia o anche il nuovo direttore sanitario, quando alla fine dell'anno si hanno raggiunto gli obiettivi, il chapa ha un premio. Allora la media della pia, ma senta dottor, perché non mi dai il premio a me? Cosa che c'entra è la pia di col premio, ma senta dottor. Ho me le lampadine da 25, ho ancora il televisore di qui con la panza del rio, vado al supermercato per farmi tutte le campagne possibili, immaginabili, con i sconti e perché non mi dai il premio a me? Il premio a quei che raggiungono gli obiettivi, ma cosa sarebbe questa roba degli obiettivi? Senta più, guardi, non ne parliamo per piacere. E ne parliamo noi. Allora io vi domando, mi domando, ma se in questo paese, non so, nascesse un Che Guevara, ma non so, un Castro, un Lenin, ossia Mussolini, un Hitler e si facesse il capo di tutta questa gente che alla fine del mese, dopo aver strussià, dal verbo strussiare trentino, strussià una vita, aver me le lampadine da 25, andare a comprare gli spaghetti, quel che costa da me, il burro in offerta, il dono del tuo pasto, io arrivo a fine mese e qui noi ciapa l'obiettivo. Ma come noi ciapa l'obiettivo? A questi dobbiamo dare l'obiettivo. E allora questa gente è incazzata, da dove deriva il verbo? E' meglio che non ve lo dica, ma è una vergogna, io mi vergognerei se fossi il Presidente Rossi, mi vergognerei se fossi i consiglieri provinciali, perché è una vergogna, una vergogna. Ma come? Assumo una persona perché faccia il direttore, ma come? Assumo perché faccia il direttore, e dopo che dà il premio perché ha raggiunto l'obiettivo, ma io non lo so veramente, siamo in un mondo di pazzi ragazzi, di obiettivo, ma con l'obiettivo lo assumo perché è il suo dovere prendere uno stipendio, che poi tra l'altro non prendono 400 euro, ma neanche mille no, ma neanche due, ma neanche tre, ma neanche quattro, c'è della gente che prende 7 mila euro! Vergogna! E la cosa che mi dispiace è che i nostri rappresentanti politici, quelli che ci danno tante le arie e che sono i consiglieri provinciali, non hanno il coraggio di dire queste cose e che deve essere un vecchio bauco come Carlo Tamanini che viene a dire queste cose alla televisione, mi meraviglio, Gareson Lapia, non si può, il premio di produzione non glielo dobbiamo dare, chiaro? Ecco, siccome qui non ascolta nessuno, come al solito avrò parlato al vento, alla prossima!